Nella mattinato di Irna, la sezione operativa della DIA di Salerno ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Salerno, su proposta del direttore della DIA, condivisa dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di un pregiudicato affiliato allo storico clan camorristico Bisogno e operante a Cava dei Tirreni e in altri comuni limitrofi, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso finalizzata alla Commissione di diversa estorsione nei confronti di imprenditori dell'agrocavese. Il provvedimento di confisca odierno, su proposta avanzata dalla DIA, quale risultato dell'analisi delle diverse vicende processuali e di articolate indagini che hanno fatto emergere la pericolosità sociale del soggetto, data sia dall'appartenenza allo storico sodalizio camorristico dell'agrocavese, sia dalle abituali frequentazioni con diversi pregiudicati della zona. Nello specifico è stato sottoposto a confisca un appartamento ubicato a Cava dei Tirreni, comprensivo di terrino e relative pertinenze.